sesta giornata snow cup blue island contro galacticos rigore per i galacticos brutto faro di cibino ultimo uomo gol botteggio 2 a 2 x davide non mi aggiunto su msd mi riede la foto perciò è bloccato mi fa cedere da un tre quattro giorni e fatto l'aggiornamento è uscito proprio che ho fatto aggiornamenti si è bloccato c'è qualche antivirus che ti blocca l'intervento anche dell'arbitro della teleconaca doppietta di olmo e basile maurizio di tacco gol di tacco pure calcio champagne stasera diamo uno si fa anticipare da ciacchi assenze nei galacticos annunziata non si vede grande pedina dei galacticos sicca laterale laterale silenzio stasera oh pinta di zambrotta cimmino zambrotta si si a munno proprio di vivo devi lasciare il pallone di vivo devi parlare con me parla con l'abile vabbè chiudiamo il collegamento ringraziamo tutti si si infatti ciao ragazzi ciao a tutti grazie